Proclamo eletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ringrazio i Presidenti della Camera e del Senato per la loro comunicazione. La sospensione da lavoro che conseguiva la mancata vaccinazione non avverrà più. Le persone, ad esempio, sopra i 50 anni, non dovranno più avere il cosiddetto green pass rafforzato, ma sarà sufficiente per loro il green pass base. Il green pass è stato un grande successo. No ragazzi, non si può iniziare a lavorare in questo modo. Io non posso iniziare ad aprire un programma strillando fuori dai coglioni. Cioè non posso iniziare a fare un programma del genere. Poi dici che copri fuoco è quello che fai. Poi uno dice non è. Non si può fare, non si può fare. Ma noi lo facciamo. Comunque, siete su Radio Noma Capitale. Questo è Copri Fuoco, con me Riccardo Vallone e Rush MC. E poi il collegamento telefonico oggi tornerà anche Maurizio Politi, dirigente Lega. Quindi non vi fate... Cioè non è che... Questo non è un programma politico. Lo dico per i nuovi che appena sentono la roba del genere fanno no scappiamo, no. Questo è un programma che ti dà la possibilità di poter parlare, chiacchierare, discutere, dire la propria. Questo è un programma che ti dà modo di dire e di fare qualcosa. E questo è già importante. Allora, attenzione, chi segue Giai Social ha ben capito l'argomento di questa giornata. Perché? Perché dobbiamo un po' rispolverare la situazione Covid. E uno dice ma perché bisogna rispolverare questa situazione? E ve lo dico io. Perché? Perché qua si continua a discutere. Stiamo facendo bene? Stiamo facendo male? L'Italia in realtà ha un bel primato che poi è quello di essere la più lenta in Europa a fare determinate cose. Considerate addirittura che siamo invece i primi in Europa per i morti di Covid. Non è che adesso i numeri sono così elevati, quindi non è che uno si deve preoccupare di questa roba, no. Però è un argomento che voglio toccare insieme a voi oggi. E avrò un paio di domande da lanciarvi. Ve lo dico quindi preparatevi come al solito se vi va di dire la vostra. 3-9-3-7-9-3-93-93. Numero WhatsApp, audio. Per favore, audio. Perché quelli di testo io... Ho un po'... Li leggo, eh. Sono sincero. Li leggo però in radio quelli di testo mi danno un po' da falso. Senti, quando dice... Mi è arrivato un messaggio da Francesco da Roma. Non li credete. Non li credete. Scherzo ovviamente. Non me la prendete, colleghi. E poi qua si incazzano di fì. Ma un po' come ne frega. Allora, detto questo, tra poco iniziamo a toccare un po' di discorsi legati. Quindi ovviamente la situazione Covid. Poi torniamo anche dai cinghialotti. Perché torniamo dai cinghialotti? Perché gli ambientalisti si sono fatti sentire. Stanno tirando fuori le unghie, proprio così. E hanno lasciato un mega striscione con scritto giustizia per i cinghiali. E dico, bravi, bravi. Giustizia per i cinghiali, bravi. Però, 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 è un po' quello che dico da qualche giorno a questa parte. Poi non vi lamentate se siamo anche pieni di sorci in giro per la capitale. Perché la stessa mentalità che hai con il cinghiale dovresti averla anche con il sorcio che cammina o viaggia sul lungo tevere. Cioè, la mentalità deve essere la stessa. Allora, quelli che dicono no perché dobbiamo abbattere i cinghiali, bravi. Sono d'accordo perché io non amo le cose macabre. Ci mancherebbe. Però, 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 se siamo messi in una situazione brutta, qualcosa dovremmo fare. Ma c'è una cosa che io appoggio di questi ambientalisti. C'è una cosa che io appoggio. Effettivamente, e ne abbiamo parlato in qualche puntata, questa situazione di cinghiali. Vi ricordate quando, feci qualche settimana fa, ma forse qualche giorno fa nemmeno, il sondaggio, il problema di Roma, secondo me, sono i cinghiali o la spazzatura? In realtà, avete detto tutti quanti che è una cosa molto corredata. Questo perché? Perché, ovviamente, se c'è la spazzatura nel cuore della capitale, se c'è la spazzatura in questa città, è un motivo che ci deve essere. Un motivo che ci deve essere, sicuramente. Non è per colpa nostra. Allora, intanto, vediamo se dall'altra parte è arrivato. Signori, io lo sapete che devo accoglierlo sempre in una maniera abbastanza plateale, soprattutto perché è ritornato dal Parlamento Europeo. Signori e signori, attenzione, applauso, signori, applauso, Maurizio Politi. Andiamo, andiamo, andiamo. Ce l'abbiamo? Ciao Maurizio. Eccomi, eccomi. Ciao Riccardo, e perdona il ritardo. Non ti preoccupare, tanto la star sono io, non me ne frega niente, se non ci stai tranquillo. Questo sempre. Però, visto che accennai al Parlamento Europeo, che ieri, l'altro ieri, ieri, scusi, mi avevo presentato il libro, a te la vengo in redazione e te ne porto anche una copia. Allora, no. Allora, te ne porto una copia, lo dici ai tuoi amici. A me devi dire, ti porto una copia del libro autografata con dedica personale a te persona fisica e anche al programma. Ok, anche al programma. A te persona fisica ci avevo pensato, al programma meno. Però, insomma, mi sembra una giusta accortezza. Ma giusto perché, sai, conduciamo questo programma da un po' di tempo insieme, ma tanto per... Sì, è passato qualche mese ormai. Ma a parte gli scherzi, adesso no, per gli amici che ormai ci ascoltano veramente da qualche mese, da qualche puntata ormai, disponibile anche su podcast, le nostre puntate. Com'è questa cosa di iniziare a fare l'opinionista insieme a me? Te la stai un po' godendo questa cosa della radio? Sì, diciamo che poi avendo caratteri di strutturalità, è per me che ogni giorno, insomma, è chiaramente un'esperienza nuova. Perché magari sono abbiato a farla qualche convegno, manifestazione però così strutturale a 360 gradi, mai fatto. Ed è una bellissima esperienza e poi mi piace tantissimo anche il programma. Della radio poi che stessa è distrattata per altri mezzi di comunicazione, ma che rimane probabilmente una delle tuccare amiche degli italiani. Mamma mia, guarda, questa è una cosa che penso davvero adesso. Non perché ovviamente faccio questo programma, ci mancherebbe, o comunque faccio questo lavoro ormai da una vita. Ma io credo realmente che a livello di comunicazione la radio si possa ancora permettere, ovviamente chi fa una scelta, per esempio come la mia, come tantissimi miei colleghi, quindi che sono anche molto più bravi di me, e fare la scelta del dire le cose come stanno. Cioè, la radio credo che sia ancora libera sotto questo punto di vista, per chi vuole farlo. Mentre sai che anche un po' la televisione è grandissimo mezzo, però anche le più piccoline devono sempre rientrare, no? In alcune virgolette, mettiamola così. Invece, io amo la radio proprio perché c'è libertà di pensiero. E, a proposito di libertà di pensiero, già ve lo dico, oggi inizieremo a parlare di questa situazione legata, Mauri, un pochino al Covid, perché cercare di capire quando finirà davvero, perché ci sono un po' di previsioni, qua si continua a chiacchierare, a chiacchierare, ci sono un po' di previsioni che non ci fanno ben capire, ben sperare, realmente a che punto stiamo. Perché sai bene che noi in Italia, rispetto all'Europa, siamo sempre un po' tardivi. Guarda adesso anche con la decisione delle mascherine sull'aereo, no? Gli altri decidono di levarsene dalle palle, l'hanno già fatto due giorni fa, noi dobbiamo mantenerle fino al 15 di giugno. Allora, io vi dico questo. Tra poco, Mauri, inizieremo a toccare questo discorso e vi farò le prime due domande che porteranno avanti per un po' questo programma e ovviamente 393-793-9393 sarà il numero e è il numero per poter chiacchierare con me e rispondere. Mauri, rimani là, torniamo tra pochissimo live, rimanete con Coprifuoco su Radio Roma Capitale. Amici di Coprifuoco, fate sentire la vostra voce al 393-793-9393. Andiamo, torniamo live, in questo momento siete ovviamente su Radio Roma Capitale, ve ne siete accorti perché sulla radio c'è scritto. Ormai la facilità di trovare una radio è incredibile, poi ovviamente siamo dappertutto. E i podcast sempre presenti, lo so che vi annoio con questa cosa di podcast, ma poi mi scrivete dove trovo le puntate e io dico, l'ho detto 100 volte in diretta radio, lo ridico un'altra volta. Spotify, Amazon Music, Apple Music e praticamente dappertutto. Allora, torniamo, regia dall'altra parte, da Maurizio Politi. Mauri, eccoci. Allora, io lancio subito al volo questa roba. Ho da fare una domanda alle persone che stanno ascoltando la radio in questo momento e voglio chiedervi, visto che dal 15 giugno ci sarà, Mauri, un nuovo decreto riapertura, no? Che stiamo un po' vivendo in questo momento, quindi lo super stato d'emergenza dovrà praticamente terminare forse al 100%. Quindi chiedo a tutti gli amici che stanno ascoltando la radio se siete d'accordo a togliere la mascherina dappertutto o se secondo voi in alcuni luoghi chiusi, per esempio come i mezzi pubblici, i cinema ed altro, bisognerà ancora usarla. Ok, quindi fatemi sapere questa cosa e soprattutto fatemi sapere se ancora la indossate dove già non è più consentito. Mauri, adesso parleremo, racconteremo un po' di diversi scenari che, diciamo, si suppongono questi tre scenari per quanto riguarda i prossimi anni, mettiamola così sotto questo punto di vista. Però, te lo chiedo prima a te, Mauri, secondo te, già sono la risposta però, tu sei d'accordo nel togliere le mascherine praticamente dappertutto, anche cinema, anche mezzi pubblici, dal prossimo 15 giugno? Imponiamo la domanda diversamente. Sei d'accordo con qualcosa che non ha senso? Continuare con degli occhi che oggettivamente, pensiamo agli aerei, all'andata magari hai la mascherina, al ritorno no, perché chiaramente parti dal luogo che all'andata era destinazione. È chiaro che parliamo di atteggiamenti che hanno un carattere esclusivamente preonastico, sulla diffusione della pandemia incitano zero, anche perché altre parti non sono chiaramente posti in essere, annullano anche l'effetto di chi magari lo ha. Dicare, pensiamo all'aereo, all'andata lo hai, hai la mascherina, a ritorno, magari non l'hai perché il paese di partenza magari non lo prevede, è chiaro che sono misure che non hanno senso. Mentre per esempio reputo che negli ospedali, nei mezzi pubblici che spesso sono particolarmente affollati, ma non puoi fare la distruzione tra affollato e no quando si tratta di buttare giù una normativa, lì può avere senso, per tutto il resto già gli italiani mi sembra che abbondantemente siano fuori mentalmente da questa pandemia, ne stiamo uscendo anche a livello medico, i contagi calano, le persone contagiate stanno sempre meglio rispetto ai precedenti contagi di qualche mese fa, non credo che ci sia bisogno neanche di una quarta vaccinazione ad ottobre, se non magari per soggetti particolarmente fragili o particolarmente esposti. Per il resto, insomma, possiamo ritornare a una vita normale, a dare proprio questo segnale che anche in Italia, che non è in assoluto, come qualcuno ha voluto far credere nei mesi precedenti, una scuola per gli altri paesi, è semplicemente il luogo che arriva spesso per ultimo sulle misure restrittive, ripartiamo. Guarda, noi per quanto riguarda le vaccinazioni ti dico che siamo messi bene in Italia perché siamo arrivati diciamo a un buon numero di vaccinati in Italia, attenzione, però per quanto riguarda il discorso di restrizione, per quanto riguarda il via libera, per quanto riguarda il vivere una vita un pochino diversa, sotto quel punto di vista non siamo proprio, diciamo, nelle top 3, anzi al contrario. Allora, io voglio toccare questo argomento oggi perché, diciamo, i massimi esperti si sono lanciati nell'ipotizzare tre tipi di scenari diversi. Il primo scenario, Mauri, è quello molto più ottimistico. Ipotizzare che nei prossimi anni la percentuale di persone completamente vaccinate praticamente passi dal 60 all'80%, numeri alla mano si parlerebbe praticamente di 2 miliardi in più di vaccinati, quindi in questo modo praticamente il rischio diminuirebbe di qualsiasi cosa, sia varianti, no, quindi andrebbe un pochino tutto così a morire. C'è un secondo scenario, che è quello più probabile, che prevede un tasso di vaccinazione a livello globale del 70%, o meglio, sotto il 70%. In questo caso, gli esperti dicono che il Covid diventerà endemico, picchi stagionali, un po' quello che stiamo praticamente un po' vivendo adesso, no? Caldo, il Covid se ne va, freddo, se ne va, passatemi il termine ovviamente, eh. Freddo invece torna il Covid, tornano i picchi stagionali, torna il problema. Questo praticamente sarebbe il secondo scenario. Poi c'è anche un terzo scenario, Mauri, e il terzo scenario invece parla praticamente della parte più brutta, praticamente quello molto più pessimistico al mondo. Gli esperti ipotizzano in tal senso aumenti di nazionalizzazioni, scrivono nazionalismi e populismi. Praticamente il fatto che le persone non si vogliono più vaccinare, non vogliono fare campagne, non vogliono fare niente, sono contro praticamente a tutto e alla fine si arriva nuovamente ai nuovi focolai e da capo a 12, per capirci, per tirare proprio le somme da capo a 12. Questi sono i tre scenari, Mauri. Io ti dico che il discorso di non indossare magari la mascherina, anch'io sono strafavorevole e rimango sempre sulla buona bontà delle persone e dell'essere umano che decide di farlo in ambienti dove praticamente ci sono le cavallette. Una persona sopra l'altra così, libertà di poter scegliere ovviamente se poterla indossare sì o no, però dal 15 sono onesto, io preferirei leggere e ascoltare Draghi o chi per lui che possa strillare al mondo anche l'Italia è fuori dai coglioni con questa mascherina. Perché io credo che ormai non ce la facciamo più, Mauri. Guarda, una sola cosa, una sola cosa mi è sfuggita. Chi è che ha prefigurato questi tre scenari? Questi tre scenari? Sì. Allora, te lo dico subito. Praticamente è un'associazione, adesso te la trovo così, è l'International Science Council, è un'organizzazione che riunisce oltre 200 associazioni scientifiche internazionali e hanno tirato fuori questo nuovo report. Mi sembra palese, vista la terza opzione, il terzo scenario descritto, che parliamo più di una relazione di stampo politico piuttosto che di stampo scientifico. Però non si sono espressi, eh? Però aspetta, 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 non si sono espressi nel dirlo. No, no, di cominciare a far pensare alle persone che se qualcuno si oppone al vaccino o magari ha una voce critica andiamo incontro, non ho capito a cosa, bene, a dei nazionalismi, delle ricondecenze nazionalsocialiste, non lo so, mi sembra veramente eccessivo da questo punto di vista. E io credo che lo scenario più sensato sia il secondo, più che altro perché il Covid verosimilmente non è che verrà mai sconfitto nel senso che verrà portato all'inesistenza. Ci conviveremo con picchi stagionali che sono gli stessi dell'influenza e similari e ci conviveremo sempre di più da questo punto di vista. La vaccinazione deve rimanere opzionale e in tanti, per esempio immaginiamo anche il vaccino influenzale, tanti lo fanno già di proprio sponte, soprattutto le categorie più fragili. Per gli altri, perché ognuno deciderà per conto suo, non ricominciamo però ad ottobre a creare dei nuovi nemici sociali, perché è già scontato che a ottobre i contagi risaliranno. L'Italia ha un tasso di vaccinazione gigantesco, poi è chiaro che il vaccino copre sempre meno, più passa la... Ma sì, perché le varianti sono varianti, è normale, su questo ormai siamo abituati, però sicuramente, sicuramente i casi risaliranno, sicuramente i contagi ci risaranno, perché questo lo sappiamo già, quindi la cosa sai che c'è che siamo già preparati a questa cosa a livello mentale, quindi ci potremo un po' salvare sotto questo punto di vista. Però facciamo una cosa, torniamo subito, rimanete tutti là, non vi muovete, torniamo tra poco live. Amici di Coprifuoco, fate sentire la vostra voce al 393-793-9393. Andiamo, torniamo live, questo è Coprifuoco, signori, un'ora insieme, spacchiamo il mondo, porca miseria, spacchiamo la capitale, spacchiamo l'Italia, spacchiamo anche un po' l'Europa, spacchiamo anche un po' i coglioni, perché lo facciamo ogni pomeriggio. Allora, torniamo per favore da Maurizio Boliti. Cosa succede? Politi, sento... Ce l'abbiamo? Politi, ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo Politi? Politi, ci sei? Se ci sei, batti un colpo. Politi, se ci sei, batti un colpo. Abbiamo perso Politi. Ok, ci pensa la redazione a chiamare Politi in questo momento. Allora, detto questo, io vi faccio ascoltare un po' di risposte che abbiamo raccolto oggi insieme ai ragazzi con gli ospiti di Live Social, gli amici che ci vengano a trovare, che registrano le interviste che poi riascolterete ovviamente in una fascia notturna. Detto ciò, abbiamo chiesto un pochino a tutti il pensiero, il pensiero sul togliere la mascherina. Vi voglio fare ascoltare le loro voci. Partiamo, regia, quando volete. Sono d'accordo a toglierla praticamente dappertutto, la terrei solo nei posti un pochettino più proprio affollatissimi, insomma, dove è impossibile mantenere un minimo di distanziamento. Per il resto, la toglierai dappertutto. Tanto, oramai, chi è vaccinato è vaccinato, chi non lo è non ci crede, è affari suoi. Bella questa cosa, affari suoi. Siete d'accordo su questa cosa degli affari suoi? Sono d'accordo. Come per dire, fate un po' come vi pare. Tanto se siete voi a decidere della vostra vita, signori miei, non è che possiamo di certo decidere noi per voi. Sentiamo un altro amico che ci ha venuto a trovare. Pensiero, vai. Io credo che il fatto che la mascherina la stiamo perdendo sia già una grande cosa, ma sicuramente magari a discrezione, poi magari dell'individuo, nel caso in cui uno si trovasse in un posto chiuso con tanta gente, magari può darsi che metterla un attimo non sconvolge nessuno. Bene, bene. Allora, vedi questo pensiero del fatto di poter cercare di decidere, di essere autonomi sulle nostre decisioni, sul fatto di dire se la voglio indossare me la metto, nessuno mi deve dire nulla. Ci sta chi frequenta locali, chi frequenta posti e sa che comunque si trova davanti una folla di gente, sa che può indossarla e spesso e volentieri, sono onesto, io giro parecchio e vedo persone che continuano ad indossarla in ambienti affollati. Non giudico, perché dico è una propria decisione, ci sta, va bene, il pensiero della ragazza secondo me è un pensiero corretto. Al di là che sono d'accordo sul bruciarle, però quella è un'altra questione. Ascoltiamo un altro parere, dai, andiamo. Beh, sarebbe finalmente ora di eliminare queste mascherine. Diciamo che tutti non ne possiamo più e in ogni caso il covid purtroppo ancora fa parte della nostra vita, ma d'altra parte dobbiamo continuare a vivere la nostra vita. Diciamo che è giunto il momento di affrontare la pandemia come una normalissima influenza e per cui questo penso. Allora, vedi il pensiero, questo è il pensiero degli amici che ci vengono a trovare alla social, ringrazio anche la redazione e lo staff per la creazione di tutto ciò, è giusto. Questo è il pensiero del popolo reale. Quando dico è un programma che comunque becca la voce per strada, quello che si ascolta, la verità è proprio questa. Le persone un po' si sono stancate, non vedono l'ora comunque di poter gettare tutto alle macerie, dar fuoco praticamente alla mascherina. Abbiamo tempo per l'ultimo? Vogliamo ascoltarne un altro? Ascoltiamo, ascoltiamo, vediamo. Ultimo, vai. Io penso che sia più opportuno nei luoghi chiusi continuare a tenerla, per una questione sempre di prudenza e di rispetto anche degli altri. Possiamo avere anche vicino persone fragili, persone anziane, dipende sempre dal luogo. Ovviamente è chiaro che tutto questo comporta un po' di scommodità, è ovvio, però io penso che la sicurezza e la salute vengano prima di tutto. Poi nel luogo all'aperto non c'è problema. Allora, torniamo dall'altra parte da Maurizio Politi in questo momento, dovremmo avercelo, però facciamo una cosa, facciamo questo signori, facciamo questo signori, poi torniamo, prendetemi Politi, portatemelo in diretta, tra pochissimo torna a coprifuoco, rimanete là, respirate signori. Noi abbiamo spaventato la gente, è una confusione che abbiamo fatto, i green pass, i super green pass, puoi andare, non puoi andare a lavorare, non puoi fare. Andiamo signori, torniamo live su Radio Roma Capitale, questo è coprifuoco per i nuovi, con me Riccardo Vallone, dall'altra parte, applauso regia, torniamo da Maurizio Politi, Mauri eccoci. Eccoci, ce l'abbiamo fatta a ristabilire la connessione. Non ti preoccupare, ho fatto ascoltare, ma tanto è in radio quindi lo sai, ho fatto ascoltare delle risposte di alcuni ospiti che ci sono venuti a trovare, ormai abbiamo iniziato a fare questa cosa tra i messaggi che arrivano e alcuni ospiti che questa mattina ci sono venuti a trovare in studio per registrare la propria intervista e hanno lasciato un parere per quanto riguarda il togliere la mascherina. E abbiamo anche chiesto l'uso, Mauri, della mascherina in luoghi pubblici, cioè il proprio pensiero. Quindi ve lo facciamo ascoltare in questo momento. Allora, io nella mia attività ancora ogni tanto la metto, perché comunque c'è un forte flusso di gente che viene da tutto il mondo e quindi preferisco ogni tanto metterla. Mauri, commentiamo questa situazione. Vedi no, ci sono comunque molte attività di là che per alcune è ancora obbligatorio indossarle, però ci sono alcune persone che anche sul posto di lavoro, secondo me, si vogliono un po' tutelare, come dice la nostra ragazza ascoltatrice, perché lavora comunque con il pubblico. Ci sta questa cosa, però la libertà di scelta quanta è bella, no? Poter dire sì, la voglio indossare, no, non la voglio indossare. Mauri? Ciao, perché la libertà di scelta è sempre bella. Dopodiché a volte delle cose potrebbero essere imposte se avessero fondamento scientifico. Cioè la questione è sempre lì. Cioè uno può subire delle limitazioni, ci potremmo fare anche una lezione di diritto sopra, dopodiché le limitazioni che uno decide di imporre devono avere un senso, tante non hanno più alcun senso, se non, se in mera ideologia o in puntatura di qualcuno, diciamo prima dell'aereo, se sono andata alla porchia, ritorno o no. Quanto cazzo fa ridere questa cosa? Ci dice che insomma la misura è abbastanza sciocca. Scusa, ma quanto fa ridere questa cosa? Cioè in aereo, fa veramente ridere. Guarda, io sono uno che viaggia. È la prima cosa che ho sparato anche quando ero in Thailandia. Ho lanciato questa cosa. Perché ancora abbiamo la mascherina? Vabbè, poi è cambiato tutto. Tranne per noi italiani. Quanto è ridicola questa cosa. Cioè praticamente io salgo su un altro paese, in destinazione Italia, devo indossare la mascherina. La FFP2, perché non posso andare con quella chirurgica. Devo indossare quella mascherina. All'interno dell'aeroporto devo girare con la mascherina. Salgo. Me ne vado in un altro paese dell'Unione Europea, dove non è ormai più consentito. E lì faccio il viaggio senza. E poi quando sono in aereo, per chi viaggia lo sa benissimo, sono appiccicato. Perché gli aerei, quanto di linea o non di linea, comunque all'interno veramente sono studiati per i nani, cioè non lo so, non c'è spazio. Sei vicino ormai, perché sai che non c'è più questa cosa. Prima c'era il distanziamento per quanto riguarda il covid, quindi non potevi essere seduto sullo stesso sit, quindi avevi praticamente un posto libero tra te e l'altro passeggero. Al momento invece non c'è più questa restrizione. Quindi tu sei appiccicato, perdonate il termine ma lo devo far capire, appiccicato all'altro essere umano. Quando tu sei in aereo, in volo, e continua a dirlo, tu sei senza mascherina Mauri, perché tanto passano 500 volte per farti mangiare, bere o qualsiasi altra cosa. E la legge dice che tu quando devi mangiare, devi ovviamente toglierti la mascherina. Quindi tu sei appiccicato alla persona, no? Siamo la nazione, adesso non diciamo l'aereo, ma siamo la nazione che ha detto obbligatorio le passe mascherina nel bar. Tu entri apposta perché vuoi mangiare o berti un caffè. serviva del tuo controllo. Prima la mascherina, cioè prima il green pass e poi tenere la mascherina, tranne nei momenti in cui mangiavi, che poi sono la pezzo che totalità. Nessuno staziona nei bar a giocare. Ma no, no, assolutamente. Vogliamo ascoltare un altro audio? Andiamo con la regia, vai. Sentiamo un altro audio. Guarda, io ripeto, la continuo a tenere dove ritengo io che sia, possa essere più pericoloso. Non nei supermercati in generale no, o nei grossi locali, perché c'è la possibilità di rispettare tutto il distanziamento possibile, insomma. Vedi, ha fatto riferimento anche lui al discorso del supermercato, perché spesso molte persone, ma tuttora, e io lo vedo, al supermercato continuano ad indossare la mascherina, anche se non c'è nessuno, perché i supermercati non è che sono piccoli, sono anche abbastanza grandi. Ascoltiamo l'ultimo adesso, poi dopo lo ne prendiamo un altro, vai. Sì, io continuo ad utilizzarla sia al supermercato che sui posti di lavoro quando è chiuso, se vado appunto in luoghi al chiuso, che può essere un cinema, un parrucchiere, io preferisco che la utilizzino e soprattutto nel supermercato preferisco anche, e anzi, esigo che la utilizzano coloro che mi servono al banco o alla cassa, perché credo sia una questione di salute e di rispetto. Allora, per quanto riguarda il discorso di rispetto, non lo so, per quanto riguarda il discorso di salute nemmeno, per quanto riguarda la situazione legata al fatto che magari sputacchiano sul cibo, quello lì ci sta, però esigere che le persone la usino all'interno di un supermercato mi sembra troppo. Mauri, che dici? Ma veramente no. Ragazzi, è bellissimo, fermate, fermo, fermo, che la tua risposta è bellissima. Guarda, mi fermo qua, mi fermo qua, ma la tua risposta è bellissima. Sì, perché veramente, cioè, ancora stare a commentare... Però la senti, però lo senti che le persone pensano questo, lo senti che le persone ancora nell'aria pensano sta roba. Sì, ma perché c'è un livello di informazione che è assurdo, perché il governo su questo... C'è paura. ...ha messo la paura addosso alle persone. Bravo. Cioè, il problema è che viviamo un clima che è assurdo stare ancora a parlare in piena estate, di accorgimenti, che anche volendo, se potrebbero avere un senso ad ottobre, per via anche della stagione, a maggio comunque non avrebbero senso. Noi stiamo ancora qua a parlare perché viene che fare poi dal 15 giugno. Mentre il resto del mondo, dell'Europa riparte, noi continuiamo a giocare con questa roba. Guarda, sono d'accordo con te sotto questo punto di vista, davvero. Allora, facciamo una cosa, ci fermiamo un secondo, rientriamo, ce la facciamo ascoltare l'altro, l'ultimo, se così chiudiamo, dai. Sentiamo l'ultimo audio, va. Attualmente in determinati luoghi, quali supermercati per esempio, non la utilizzo più. Sinceramente può capitare che nel momento in cui mi sento un po' in pericolo, continuo ad utilizzarla, cioè quando ci sono situazioni di veramente troppo affollamento. Fermi tutti. Amici di coprifuoco, fate sentire la vostra voce al 393-793-9393. Così ti voglio bella romantica ma anche un po' aggressiva. Viela! Signori, torniamo da Politi per favore che hai incazzato nero su questa cosa. Maurizio, io adoro veramente la tua risposta. Cioè, se vi siete persi la risposta di Maurizio che ha dato prima nella semplice domanda, lui ha risposto in questo modo. Era composto in questo momento, cercavo le parole ma non le ho trovate. Che bello questo programma, comunque. Allora, tra poco Mauri, dobbiamo andare in pubblicità. Poi, una curiosità, su questo non ci siamo accordati, però io, se non erro, ieri ho visto sui tuoi social qualcosa sulle piste ciclabili, o sbaglio? Mi sembra di aver visto un articolo che è pubblicato e ripostato. E' uscito un articolo del foglio che ripostava un mio video di via Tuscolana, che ho fatto domenica scorsa, in cui rimettevo per l'ennesima volta il risalto che le piste ciclabili sono state fatte, in realtà non tenendo conto neanche dei posti per disabili. Quindi noi abbiamo piste ciclabili che si interrompono al posto di sabili, quindi la bici ritorna comunque in mezzo alla strada, dove però sono parcheggiate le automobili, quindi deve proprio andare in mezzo alla carreggiata per poi rientrare. In realtà è tutto frutto di quella mentalità ideologica che pensava che andare verso la mobilità l'alternativa era semplicemente dipingere un po' a terra le strade, di piste poi che non utilizza quasi nessuno, non vengono manutenute, hanno creato disagi pazzeschi al traffico, pensiamo a via Tuscolana, a via Gregorio VII, a via Benito Sacchetti abbiamo problemi con le ambulanze, si stanca la vicinanza col polo spedaliero, tutto questo per raccontarci di una città ciclabile, solamente però sulla carta. Allora fermo là, fermo là, fermo là, andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo e voglio prendere un attimo questo discorso perché poi ti devo dire due o tre cose sulla ciclabile, però rimanete là, fermi. Lei a tre anni ha dato fuoco alla sua casa, è nato lì l'amore per la fiamma? Forse sì. Ah, oh, eh, eh, eh. Siete in diretta, no? Siete in diretta o posso dire le parolacce? Allora, iniziamo a parlare di cose importanti. Ma siete in diretta davvero? Sì, sì. Sempre ogni giorno, quasi ogni giorno, tranne il weekend, da lunedì al venerdì, qua c'è coprifuoco, 17-18 come Riccardo Vallone o Rush MC, dall'altra parte, regia applauso, perché non sapete come sono esigente su queste cose, Maurizio Politi, che è stato interrotto da me medesimo per quanto riguarda la situazione dei monopattini, delle piste ciclabili, perdonami, ma c'è una cosa che volevo dirti, Mauri, l'altro giorno ero proprio sulla Tuscolana, c'è un mio amico che ha un appartamento lì e lo sono andato a prendere, vi dico anche dove, altezza, McDonald's, via Tuscolana, proprio dove ci sono tutti i negozi. Per poco non uccido, per poco, non scherzo, non uccido un ciclista poverino, perché con tutte le macchine parcheggiate, anche in doppia fila, mea culpa, ma meno male che andavo piano, perché stavo sterzando per entrare dentro una vietta, una traversa, Mauri, ti giuro, non si vede nulla. Quindi tu, quello che va sul monopattino, che va sulla pista ciclabile, non lo vedi, non lo vedi, perché ci sono le macchine parcheggiate, gli in doppia fila, quelli fuori che aspettano, ovviamente stanno lavorando, poverini, però aspettano i delivery per farvi capire. Mauri, ti giuro, per poco lo metto sotto. Cioè, non si vede nulla, Mauri, non si vede nulla. Sì, sì, no, è assurdo, veramente, abbiamo fatto, le piste ci hanno fatto, delle piste ciclate, assurde, degli sprechi di denaro, su quale adesso anche il Campidoglio sta pensando di intervenire la nuova amministrazione, proprio perché creano problemi a tutti. Bravo, da risolvere problemi, potrebbero, cioè, dovevano essere nati per risolvere alcuni problemi, ma ripeto, io non voglio essere cattivo, non si può fare il nostro, a Roma non si può fare sta roba, non possiamo avere le piste ciclabili, ma continua a dirlo, sarebbe tutto bello, magari, ma non ci siamo proprio nemmeno noi come mentalità, siamo troppo differenti da, non possiamo avere una pista ciclabile nella periferia romana, posso capire un po' in centro, sai, ma veramente, secondo me nella periferia romana, è veramente impossibile avere una pista ciclabile, non serve praticamente a nulla, Mauri. Veramente, guarda, senza parola, io quello che ho visto fare in questa città, in questi anni, veramente, un giorno forse, già l'ho fatto due anni fa, alcune cose le abbiamo messo in un libro, però più in termini propositivi, ma se un giorno volessimo raccontare le nefandezze accadute anche solo sulla mobilità, scambiando veramente le scatole di vernici per mobilità alternativa, perché questo è stato fatto, prendere una scatola di vernice, pitturare un pezzo di carreggiata e dire che lì c'era una pista ciclabile e spostare i parcheggi in mezzo alla carreggiata, perché se prima parcheggiavi accanto al marciapiede e oggi c'è la pista ciclabile, tu le macchine le hai parcheggiate in mezzo alla strada, facendo questo per la nuova frontiera della mobilità romana. Sì, 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 assolutamente, guarda, che fa anche ridere. Allora, signori, torniamo subito e al rientro, Mauri, ti leggo solo questo titolo. L'Italia contro la Russia, ma non può scaricarla. Mario Draghi, indipendenti dal gas, a metà 2024. Dai che ti aspetto, dai che ti aspetto, dai che ti aspetto, dai che ti aspetto. Amici di coprifuoco, fate sentire la vostra voce al 393-793-93-93. Sì, è come se ormai è diventata la mia ragazza lei, praticamente, no? Questa voce che non so nemmeno da dove esce fuori, è diventata la mia donna. Questa è diventata, guarda, c'è proprio l'attacco. Sai quando vieni conquistato da un numero di telefono? È questo. Vabbè, comunque, quello è il numero di coprifuoco, eh, quindi lo trovate dappertutto, in realtà è il numero della radio, me ne sono un po' appropriato per poter commentare. Torniamo per favore da Maurizio Politi, regia. Bravi, bravi, bravi. No, perché se no, se non gli metti l'applauso, ormai lui non risponde più al telefono. Guarda, tu fai l'applauso e lui dice ciao, guarda, eh. Di ciao. Ciao, ci sono. Vedi, vedi, vedi. Allora, Mauri, abbiamo gli ultimi minuti e ho lasciato un po' questa notizia così di coda, ma non per l'importanza ci mancherebbe, perché noi abbiamo trattato molto di questo argomento legato a gas russo, situazioni, guerra non guerra, e lo potete riascoltare, potete riascoltare ovviamente nel podcast di Coprifuoco, disponibile su Spotify, Amazon Music e tutte le piattaforme possibili, o seguite il mio profilo Instagram Riccardo Ballone o Rush MC Official, si scrive con la U Rush, per avere poi più informazioni anche per dove cercare di capire e trovare bene questi podcast. Detto ciò, l'Italia condanna questa invasione russa, Mauri, da un bel po' di tempo. Però questo titolo, diciamo come per dire, lo sapevamo già, nel senso che non sarebbe stata così semplice la via di fuga dal gas o dalla materia prima, gas e petrolio che sia, che arrivano comunque da Mosca, Mauri. Qui hanno detto indipendenti dal gas a metà 2024, cioè praticamente abbiamo ancora due anni buoni da versare. La Russia sta prendendo un sacco di soldi da tutta Europa, come ha sempre fatto, cioè è arrivata a prendere cifre impressionanti anche in questo periodo, quindi... Le forniture di gas e di petrolio, tu non è che le puoi portare a zero, in qualche settimana, anche se la situazione veramente sta precipitando, perché non si vede minimamente luce, cercheremo di capire adesso come sarà l'ulteriore pacchetto di misure restrittive che verranno imposte alla Russia, con l'agudio sempre che a farne le spese non siano gli europei e gli italiani per quanto ci riguarda. Se qualcuno pensa di combattere la dipendenza dalle fonti energetiche russe, non so come ho letto di abbassare i limiti autostradali di velocità, è veramente difficile, questo è un po' come combattiamo la Russia non accendendo il condizionatore, mi andrei veramente cauto su questa roba. Sì, sì, quella che hai citato è praticamente un'opzione contenuta nel piano di Power EU, che sarebbe quella dell'Unione Europea, ovviamente un pacchetto di 11 misure pensate per ridurre l'emissione del blocco e consumi di gas e petrolio, però veramente non credo che sia proprio una grande misura come quella di spegnere i condizionatori, Mauri, come quelle di non accendere l'aria, cioè tutta questa roba così. Ah, ti volevo dire una cosa, ti volevo dire una cosa molto curiosa, ho scoperto ieri mentre parlavo con un mio contatto, come ben sai, from Russian, from Russia, Mosca, e sai che loro lì, ti dicevo che loro non pagano praticamente il discorso del gas, ci sono alcuni quartieri, mi hanno spiegato questa roba qua, poi ero curioso di cercare di portarlo un po' a tutti in coprifuoco, praticamente fanno tipo giorni alterni o settimane alterne o dopo 4-5 giorni, mi spiego meglio, hai l'acqua calda o comunque i servizi d'acqua calda e tutto quello che ti serve e fai conto, che ne so, 4 giorni questa settimana e invece poi gli altri 4 giorni aspettano un'altra via, capito come fanno? Hai capito che cosa strana? Ho ammutolito Politi dall'altra parte signore, Maurizio Politi, sei presente, sei vivo? Signore abbiamo perso Politi, abbiamo perso Politi definitivamente? L'abbiamo perso, vabbè allora facciamo una cosa, tiriamo giù perché non lo troviamo, vabbè comunque questa cosa curiosa, mi spiegava ieri, mi diceva ma com'è possibile per chi ha perso la puntata, qualche puntata di qualche giorno fa, parlavo del fatto che in Russia non pagano il gas e hanno questa cosa, perché uno poi diceva come fanno a non pagare il gas, ok hanno questa cosa per l'acqua calda, alcune vie, alcune street, lavorano in questo modo, Politi ce l'abbiamo Politi dall'altra parte? Non lo sentiamo, adesso ti sentiamo molto bene, perdonami Mario Ah c'ho anche scritto che parlavo ma non mi sentivi, sicuramente avevi il microfono tuffato come al solito, ma non fai, senti no, tutto può essere, scherzi a parte Mauri stavo spiegando a chi è appena arrivato in questo momento e magari si è perso la puntata che ho accennato del fatto che in Russia a Mosca per esempio non si paga il gas, le mie fonti questo mi hanno detto il popolo non paga il gas, mi sembrava una cosa molto strana e infatti questa cosa dell'acqua, avere l'acqua calda va praticamente a discrezione, una volta ce l'ha uno, una volta tipo ce l'ha l'altro, hai capito come si gestiscono le cose? Sono forbi però, lo sono di scelta, come fanno? No, che poi veramente non sono riuscito a verificare, me lo accennavi un qualche giorno fa, questa cosa del costo del gas non lo pagano, porca miseria, non lo pagano, questa cosa volevo capirla bene, guarda ti dico la verità, io ho provato dopo aver ascoltato la mia fonte, ma ci vive, adesso non lo paga, dopo aver ascoltato la mia fonte sono andato a fare una ricerca, però purtroppo non si trova questa cosa in internet, online non si trova, perché appena scrivi gas esce guerra, tutta sta roba così, non riesce a trovare la parola chiave, però se ci fosse tra gli ascoltatori di Radio Roma Capitale qualcuno con un business verso Mosco, che vive a Mosco, che vive in Russia, o anche voi che siete arrivati in Italia, non lo so, se avete questa testimonianza anche di un viaggio, fatemelo sapere, perché questa cosa del gas mi aveva incuriosito, ce l'ha incuriosito a me e a Mauri, però io sono rimasto su quello che mi hanno raccontato, che il gas in Russia non si paga e riusciremo in teoria, non è difficile da capire, da comprendere questa cosa, Mauri, in realtà non pagare il gas se vivi in Russia, lo paghiamo noi non lo so, però realmente, guarda, mi si, la mettiamo abbattuta così, certo, però mi incuriosisce, questa nota la approfondirò, vediamo se poi riusciamo a dare anche agli ascoltatori qualche informazione maggiore guarda, probabilmente la mia fonte arriverà anche in Italia, quindi darò modo o maniare di poter capire meglio di questa situazione. Mauri, io ti saluto come al solito, l'appuntamento con noi torna lunedì, anzi no, domani, ci sei domani tu, Mauri? Ci sono, sì, domani ci sono. Ok, appuntamento con Politi domani e me su Radinoma Capitale, grazie Maurizio, grazie. Un saluto agli ascoltatori. Un abbraccio come sempre, adesso chiudiamo questo coprifuoco, signori, l'appuntamento è domani, stesso orario dalle 17, mi raccomando, mettetevi la sveglia, carichi più che mai, come al solito, ringrazio tutto lo staff, ringrazio tutti, oggi tipo applauso, tipo eh, la scala, seguite i social, mi fate un altro applauso? Grazie, ce ne ho bisogno perché mi sento proprio, so, non è proprio vero, signori. Va bene, tra poco podcast anche disponibile dappertutto, bella. Allora come facci a fare la spesa? Ma che senso ha questo coprifuoco? Finalmente conto che cosa significhi per la popolazione? Certo, non esce nessuno, così non si tentano attentati. Ah, a cosa? Lei non può uscire. E cosa c'entro io? Cerco più fuoco. O io sono il potestà. Lei c'è quella sorta degli altri e si mette a fare in testa che il permesso di circolazione non glielo do. Me ne prego! Io vado da Schettler e farà comando tu se ne ce ne vado al quartier generale. E allora c'è che si trova. Vado da Hitler e me lo saluti. Senz'altro. Senz'altro. Lo vedremo. Ce ne va. Senza.